Dopo l'inaugurazione del campo polivalente della parrocchia Santa Maria Goretti, l'area parrocchiale di Via Montesi a Sant'Orso di Fano si arricchisce di un nuovo parco giochi. Scivoli, altalene, due strutture a molla ora fanno parte dello spazio verde del giardino pubblico grazie al contributo della stessa parrocchia e delle famiglie del quartiere. Siamo contenti di poter offrire alla nostra comunità, in collaborazione anche con i genitori di Sant'Orso, con tutta la parrocchia, questa nuova area destinata ad un'aggregazione di un certo tipo di qualità per i più piccoli, per le famiglie, perché si possa passare un po' di tempo insieme e soprattutto in sicurezza. Infatti in giornata verranno installate delle telecamere di videosorveglianza? Sì, ho desiderato il videocontrollo per garantire anche un minimo di sicurezza, a qualora ci dovessero essere degli infortuni che non dovranno mai esserci, ma soprattutto per prevenire atti di vandalismo, cioè la comunità desidera che certe situazioni vengano messe in sicurezza e in sorveglianza perché c'è anche una spesa economica da sottovalutare. Nei progetti della parrocchia rientra anche la ristrutturazione dei locali in cui era ospitato il teatro, non più fruibili nel tempo con le nuove norme sulla sicurezza. La struttura da tempo in degrado sarà trasformata in un luogo di ritrovo, di incontro e di socialità per tutti. È aperto il cantiere, non sappiamo adesso entro quando i lavori potranno essere terminati, però si sta andando avanti, i progetti che avevamo già illustrato in un precedente servizio stanno andando avanti, a breve anche l'installazione del gazebo per dare alle famiglie che vogliono aggregarsi anche un'area coperta qui nella nostra zona parrocchiale, quindi stiamo procedendo, siamo di parola. Come dicevamo anche le famiglie hanno contribuito alla realizzazione di quest'area giochi, dunque è un bel esempio di comunità. Decisamente, Sant'Orso ormai è conosciuta per questa, siamo un bel gruppo di famiglie, di cittadini di Sant'Orso. Grazie a tanti eventi, manifestazioni, cene, compagnia bella, si sono raccolti poi una parte dei fondi per la realizzazione di questo bellissimo impianto aggregativo naturalmente. Si dà anche un modo appunto a questi giovani di potersi divertire insieme e tutta in sicurezza? Decisamente, ma i giovani da 0 a 90 anni, come dico io, perché poi quando è la fine qui ci possono venire persone, i genitori, i nonni, è proprio in sicurezza. I bambini si divertono, i più grandi magari seduti possono fare quattro chiacchiere, leggere un giornale, ma stare tutti insieme che è la cosa più bella insomma. Grazie a tutti.